volevo dirvi una cosa molto importante donate il 5 per mille alleatli è un'associazione molto importante sta nel sociale è composta da gente gentilissima molto disponibile che aiuta la gente bisognosa specie in questo periodo appena passato si è dimostrata molto attiva nel sociale adesso tocca a noi tocca a noi dare una mano a loro e doniamo tutti il 5 per mille alleatli chiedo di sostenere con il 5 per mille leatli perché perché è un'organizzazione in questo momento ha fatto un grande lavoro ed è messa in un contesto di supporto alle famiglie italiane tra cui anche la mia zona il 5 per mille alleatli perché in questo periodo buio hanno portato un raggio di sole in molte case sono uno dei tanti volontari che danno supporto pratico alleatli nelle attività di assistenza le fasce più deboli alleatli serve anche un sostegno economico e tu puoi aiutarci non ti chiediamo denaro ma poi dedicare alleatli il 5 per mille delle tue tasse in fase di dichiarazione dei redditi grazie di essere dei nostri noi dell'agri siamo qui perché voi siete il nostro prossimo aiutarvi ci fa stare bene donaci il tuo 5 per mille a te non costa nulla ma ci aiuti ad aiutarti meglio grazie dona il tuo 5 per mille alle agri perché con un piccolo dono renderai possibile un grande progetto aiutate agri perché come io sono un estremiere ne sento agri come la forse la catamina aiutarci donaci 5 per mille alleatli perché aiutano le mamme in modo concreto dona il 5 per mille alleatli perché non c'è gesto più nobile che fare del bene